Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un nuovo mio video, in un mio nuovo video, vabbè, sono stata distratta da alcuni rumori fuori, sembra che si sia scatenato l'inferno e c'è un gran casino per le scale del condominio, l'una che abbaglia, vediamo so tre volte che cerco di iniziare questo video, vediamo se alla quarta ce la faremo. Allora, video dei prodotti finiti del mese di dicembre, che ormai lo sapete, faccio in collaborazione fissa con la mia amica Debbie del canale Sproloqui di Deb, tesoro un bacio e partiamo a bombazza, ma prima vi devo dire una cosa, se vedrete svolazzare un po' di capelli, cominciare a sollevarsi, è perché c'è una tramontana pazzesca fuori, in questi giorni qui a Roma, ai dintorni, nei quali vivo io, nei quali vive la Colors, potete capire che temperature, oddio, noi non siamo abituati a queste temperature polari, per cui insomma io amo il freddo, amo l'inverno, eccetera, eccetera, ma credetemi questo freddo ci sta provando davvero, davvero tanto e quindi essendoci tramontana potrebbero volare, prendere vita propria, i capelli e partire, vabbè, dette queste quattro cavolate, partiamo con la bustona, ovviamente, tanto altro video chilometrico, non ne parliamo più, vado come sempre random, tentando di non fare guai, allora, terminata una confezione di Depilzero, crema depilatoria corpo, gambe e braccia, bla bla bla, mi sentite parlare ogni tanto, chi mi segue su Instagram sa che il mio Ricky era in gara qualche giorno fa, il 5 per la precisione, il 5 gennaio e quindi ovviamente gara uguale depilazione, gli ho detto amore de mamma, cerchiamo di andare a farci una ceretta perché ha due chilometri, scusate, non gliela posso fare, ha due chilometri e mezzo di gambe e quindi è veramente, con un tubo che riusciamo a farci tutte e due le gambe, ma i peli cominciano a diventare abbastanza tostarelli, per cui deve fare la ceretta, non c'è niente da fare, poi se li vuole fare le va un po' dappertutto, dico ma dai almeno il tempo di crescere a sti peli, vabbè, comunque è quella che non gli fa venire problemi di irritazione, noi ci troviamo benissimo, questa è con proteine e olio di jojoba, formula delicata per un risultato efficace e duraturo, ve l'ho fatto, siamo stati beccati in toto dall'influenza, tutti noi 4 Colors e quindi questo mese ho ben 3 confezioni di veline da farvi vedere, oltre a pacchetti di fazzoletti eccetera eccetera, comunque queste sono della linea Pam Panorama, insomma quelle che trovo al Pam Panorama, sono morbide e resistenti, 100% cellulosa, 100 veline, insomma mi sono trovata da Panorama in emergenza e le ho prese, molto carina la confezione, poi veline del marchio Gentli che trovo al mio magico Todis, eccole qui, mi manca parlarne, e poi veline di questa linea qui pura, queste le ho prese invece da Acqua e Sapone, mi dispiace che la luce non sia delle migliori, cioè in realtà è mattina, ma sto filmando con le luci artificiali in bagno perché nella stanza di Viviana di là non ho sufficiente luce nella postazione che in genere utilizzo, lì giro meglio di pomeriggio, oggi è mattina, ma insomma mi sono trovata questa mattina a girare e devo approfittare insomma, comunque queste della Sicci, pura Sicci, 100 fazzoletti molto chiuso, 2 veli, al solito ecco, diciamo che è un po' di volume, ah no scusate sono 4, eccole qui, 100 veline sempre della Gentli, ecco io ho detto che erano 3 confezioni e invece sono 4, va bene, poi terminate queste salviettine umidificate, queste sono della linea Baby Clean, 72 salviettine umidificate, senza alcol, PEG, parabeni e allergeni, con camomilla, aloe e emollienti e provitamina B5, di questa linea qui ve ne mostro spesso di queste salviettine qui, a me piacciono tantissimo, sono molto molto delicate, stanno davvero di camomilla, hanno un odore veramente delicato, sapete gli utilizzi che ne faccio, però mi trovo benissimo e poi ormai tendo ad acquistarle solamente con questa chiusura rigida, perché almeno non rischio, cioè rischio di non far asciugare le ultime salviettine che rimangono, quelle sono eccezionali perché rimangono imbevute dalla prima all'ultima, questa specie di residuato bellico invece è una salviettina da borsetta, queste si chiamano Morbi Salviette, guardate era un secolo che le avevo in borsa e queste le ho prese da risparmio casa, a parte la confezione quindi senza, con la plastichina morbida qui, per cui diciamo che la metà poi le ho buttate perché si erano asciugate, non mi sono piaciute né per la profumazione né per come erano imbevute, erano piuttosto asciunte, non so se riuscirete a capire, eccolo qui, prodotto per risparmio casa da Diva International etc., etc., non hanno niente, hanno tutto quello che di sbagliato, hanno tutto quello che normalmente non cerco nelle salviettine, nel senso, parlo di ingredienti ovviamente, guardate io sono italiana e parlo anche un italiano abbastanza decente, non so perché, ve l'ho già detto più volte, come mi metto qua davanti, mi sale l'agitazione, vabbè, sembra che io sia veramente una mezza analfabeta, comunque 20 salviettine, nate e morte qui, non mi sono piaciute, non le riprenderò, ecco senza starci a perdere troppo 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 tempo, finalmente, finalmente è terminata questa maschera capelli di Omia, questa è quella all'olio di semi di lino, una schifezza immonda a livello di profumazione, ecco ho anche lavato la confezione, ma puzza, io non so se i semi di lino puzzino, non lo so perché non è un seme che io compro, insomma, ma che puzza, quanta fatica, questa avrà più di un anno, il PAO era 6 mesi, infatti negli ultimissimi applicazioni, aveva fatto una specie di bordino giallo, un pochino più consistente, però io l'ho comunque utilizzata, tanto non è che la metto sulle radici, la metto sulle punte e per sbrigarmi l'ho messa pure sui capelli di Viviana, dico così, ci sbrigiamo, sì è buona, è certificata Icea, l'effetto morbido sicuramente lo dà questa maschera, ma l'odore è una cosa veramente nauseabonda, ma se io mi metto così forse è meglio per voi, no, e scusate, no, 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 effetto amorbidente ci siamo, odore nauseabonda, non la ricomprerò mai più, mai più, è stata una cosa veramente mi metteva pensiero metterla sui capelli ogni volta che dovevo lavarmeli. Terminato questa meraviglia, questa delizia di bagnoschiuma, di bagno doccia, mele e spezie con succo di miele ed estratto di cannella di bottega verde. Partiamo, a parte la confezione, super stra fashion, bellissima, ma l'odore, l'odore di questo doccia schiuma, allora vi sembra praticamente di fare, ci sembrava di fare la doccia con lo strudel di mele, ecco, voi avete presente l'odore dello strudel di mele quando esce dal forno caldissimo, questo è questo doccia schiuma, bagno doccia, chiamatelo come vi pare, 250 ml, paradisiaco, paradisiaco, io amo i doccia schiuma, bagno schiuma di bottega verde, mi piacciono tantissimo e per consistenza e per come lavano e per come lasciano la pelle, per me sono dei prodotti veramente top di bottega verde, questo, la profumazione di questo è qualcosa di veramente inebriante, super stra consigliato. Terminò questo dopo, questo facciamo dopo e questo facciamo dopo, poi terminata questa acqua miscellare di Yves Rocher, quella ai tre tè detossinanti, ottimo prodotto, questo avevo preso mi sembra un prendi tre e paghi due o prendi due e paghi uno, forse un prendi due e paghi uno e mi piace tantissimo, non è la prima volta che me la vedete presentare, la profumazione è delicatissima, cioè si sente però è veramente buona, sapete quando ci sono quei prodotti che proprio mi piacciono tanto e uno non vede l'ora di fare la, che ne so, in questo caso la detersione del viso per sentire quel profumo sulla pelle? Mi piace tantissimo, io ho struccato solo il viso con quest'acqua miscellare e non so dirvi l'effetto sugli occhi, sapete che uso il bifasico per gli occhi e quindi però vi dico perché non vi posso fare una recensione per gli occhi, ma per il viso è favolosa, lo sapete la riutilizzo quando mi capita di andare da Yves Rocher, la prendo sempre. Terminato un detergente intimo della linea Lines Seta Lei, anche questo non ve lo devo descrivere, non ha coloranti e non ha parabeni aggiunti, PAU 12 mesi, confezione classica da 200 ml, mi piace, ci piace, quando c'è una farmacia qui vicino a casa nostra nella quale noi ci serviamo, che è molto ben fornita, che ce l'ha quasi sempre in offerta a 1,99 euro e quindi quando mi capita che rimango senza, devo fare delle piccole scorte eccetera eccetera, vado sempre a prenderle lì, perché il 90% delle volte questo prodotto ce l'hanno in offerta, ci piace, è delicato, non procura irritazioni, lascia la parte anche profumata, diciamolo, insomma anche sulle mani dopo che vi siete insomma lavate, buono, 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 io ve lo consiglio, se volete provare una cosa diversa. Terminato questo dentifricio pasta del capitano antitartaro con pirofosfati ideale per fumatori, qui non fuma nessuno, ma sapete che io li prendo a mazzo quando sono in offerta e è capitato anche questo in mezzo e ricordo, ogni volta adesso lo ricordo perché me ne sono accorta qualche tempo fa, che questi dentifrici della pasta del capitano non contengono SLS, Triclosan, parabeni e conservanti donatori di formaldeide, eccolo qui, che è una cosa insomma che ci fa piacere, ci è piaciuto, non vi ho detto il colore, sapete che ve lo dico sempre, un bel verde menta ed era anche molto gradevole la profumazione, questo ci è piaciuto davvero tanto. Terminato, che prendo qua, come vestiamo, terminato questo sapone, crema di sapone della Thermomed per le mani e viso qui dice, senza parabeni, profumazione talco iris, che vi devo dire, la profumazione talco iris l'avevo già provata in un profumino che ho finito tempo fa, buono, veramente buono, delicato, sa di pupetto, sa di talco, sono quelle profumazioni gradevoli, anche sulle mani non aveva un effetto particolarmente seccante, se così si può dire, le mie mani si seccano a prescindere, però ci è piaciuto tanto, ed è veramente una crema sapone, ha un colore bianco lattiginoso, diciamo, è un prodotto che ci è piaciuto, lo potremmo tranquillo, io ormai parlo, parlo come si dice, al plurale, scusate un attimo, ma ho un problemino di gocciamento naso, va bene, con il freddo ci può stare, scusate, allora, andiamo avanti, terminato questo DAV deodorante per le ascelluzze al talco, questo purtroppo ne avevo fatta una scorta, trovati in offerta da acqua e sapone, ne avevo presi 3 o 4, per le ascelle di mio figlio non vanno bene, non va più bene, perché puzzano, praticamente è molto gradevole la profumazione, però come effetto pratico non ci siamo, abbiamo approvato ad utilizzarlo il maritozzo, idem con patate, lui che non ha una sudorazione acida, forte, acre, difficilmente puzza di sudore il mio maritozzo, con questo ha iniziato a puzzare, quindi ho detto no, non è per te, ne sono rimaste un paio di confezioni, ancora ne ho 2 o 3, le userò per deodorare il bagno, oppure le scarte, adesso vediamo, comunque non andranno sprecati, poi terminato il mio parodontax, eccolo qui, il solito, non ve lo sto neanche a descrivere, ad uso quotidiano con fluoro, devo andare a fare la pulizia dei denti, mannaggia a me, con queste benedette vacanze di Natale, vacanze, chiamiamole vacanze come abbiamo passate noi, va bene, comunque è uno tra i miei preferiti, mi aiuta nel sanguinamento delle gengive, ma adesso sono arrivata a un punto che o vado a fare la pulizia o nessun dentifricio mi potrà aiutare, è ora di andare a sistemare i dentini, terminata, ecco questo è terminato, questo gel detergente delicato della Cien, questo a giro ogni tanto quando riesco ad andare da Lidl, me lo vedete utilizzare, mi piace, è molto, è veramente molto delicato, fa pochissima schiuma, si risciacqua in un nanosecondo, non mi fa tirare la pelle, mi piace, è un classico di Casa Colors quando riesco ad andare appunto da Lidl. Ho terminato questa crema, ma va? Io cerco di non dire ho terminato, ho terminato, non ce la faccio, vabbè, diciamo finita questa crema di Bottega Verde, questa crema mani, Argan del Marocco, rigenerante nutriente con olio di Argan ed estratto di gelsomino del deserto, questo è il paradiso, chi mi segue da tanto tempo sa che ho molta difficoltà durante il periodo invernale per l'idratazione e nutrizione, non si dice nutrimento, delle mani e quindi non tutte le creme, tante creme per me sono acqua fresca, questa sono riuscita ad utilizzarla la sera prima di andare a dormire, vi ho detto tutto, profumazione super paradisiaca, mamma mia che buona, 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 mi è piaciuta la profumazione, mi è piaciuta la consistenza, mi è piaciuto l'effetto e la mattina mi risvegliavo con le mani ancora morbide e per nulla secche, super strapromossa, si assorbe in un mezzo minuto, veramente super promossa, ecco se vi capita cerco di farvela vedere intera, mi dispiace che vi faccio vedere queste confezioni disastrate, però io devo tagliare, anche perché guardate una volta tagliata ci avrò fatto almeno una settimana se non di più, quindi è veramente un peccato sprecare il prodotto, questa non mi ricordo se è una full size perché sono solo 40 ml o era una confezione che mi era stata data per un ordine fatto, non mi ricordo, però stra consigliata, strapromossa, se volete provarla mi farà piacere e non perché Bottega Verde mi paghi, terminato, balsamo Splendor, fiori di mandorlo e carité dolcemente nutriente, questo rispetto ovviamente alle maschere è diciamo acqua fresca, la profumazione è super super gradevolissima, una volta, tanto tempo fa una ragazza tra di voi, tra voi mi consigliò, io avevo fatto vedere in un video quello al cocco che è molto più famoso e mi disse prova quello con al carité, insomma col tappo marrone, non rimarrai delusa, aveva ragione, prendo solo questo, quando mi capitano i non non offerta, i non non offerta, pure balbuziente adesso, e prendo solo questo, mi piace tantissimo, certamente rispetto a una maschera è molto più leggero, però l'effetto districante anche sui capelli di Viviana c'è e lascia anche i capelli delicatamente profumati, per cui a giro, quando mi capita, lo riprendo sempre. Terminato, questo, qui lo chiamano profumo, excitante parfum, orchidea vaniglia della linea Delice Day by Day, Body Spray Deodorante Incontro, ecco questo è, per capirci, questo deodorante spray profumo, chiamatelo come vi pare, viene prodotto dalla Mil Mil, e lo trovo da risparmio casa, e buona 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 la profumazione, utilizzato per deodorare il bagno dopo essere andati in bagno, ecco ci siamo capiti, e quindi buono, quando mi capita a giro, è una confezione, sono piccoline, sono da 100 ml, però devo dire che il profumo persiste ed è anche molto 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 gradevole. A proposito di profumi, ho terminato uno tra i miei amori assoluti, ti prego di te registi, tesori d'oriente, profumo aromatico, vaniglia e zenzero del Madagascar, ok? Io amo i profumi, tesori d'oriente, questo è una semidroga, ecco, scusate, mamma mia, ecco è vuoto, non c'è più niente, buonissimo, me lo so sparato fino all'ultimo goccio proprio, il mio amore è smisurato per questi prodotti, lo conoscete, non devo pubblicizzarlo, questo alla vaniglia e zenzero del Madagascar, vi consiglio, oggi se ce l'ho questo pollice io, di provarlo almeno una volta, perché ve ne innamorerete, se vi piacciono le profumazioni, dolci sì, ma con una nota frizzante e piccantina, veramente buona, è un misto tra un dolce e uno speziato, super super yeah, yeah promosso e sicuramente, adesso ne ho tanti da terminare, ma sicuramente ritornerà tra le mie scorte profumose. Terminato un altro dentifricio, ma quanti denti ci siamo lavati sto mese, terminato un altro pasta del capitano, placca e carie, con due sali di fluoro e menta fresca, stesso discorso, questo dovrebbe essere bianco sì, anche questo insomma ci è piaciuto, al solito, lava, fa il suo porco lavoro eccetera eccetera, ho detto una cosa bruttina. Terminato e devo dire finalmente questa maxi bocciona da 250 ml di acqua profumata del marchio equivalenza, questo era alla vaniglia, spray corpo, profumazione idratante eccetera eccetera. Allora, l'estate io uso le acque profumate, ho iniziato a farle usare anche a Viviana, perché è ora che inizia, quasi 12 anni, ecco tra qualche giorno farà 12 anni, compirà 12 anni, è ora che inizia ad usare anche lei delle acque profumate, la voglio abituare, la vorrei abituare ad una buona igiene, a parte igiene e detersione va bene, ma anche ad essere, a curare la sua persona e quindi ho iniziato a farle mettere dall'estate scorsa delle acque profumate. Questo addirittura risale a due anni fa, nonostante, vabbè no, il PAO è di 36 mesi, quindi ci sono rientrata nel PAO e era andata d'equivalenza a fare una scorta di profumi per mia madre e ho detto va bene, devo partire per il mare e mi prendo quest'acqua profumata, ero tentata, no, sono meglio i profumi, non mi è piaciuta moltissimo, devo dire la verità, la profumazione è sì veramente buona, ma è fortemente alcolica, veramente tanto tanto tanto, e vediamo se ci sono gli ingredienti, ma non credo, no, no, non ci sono, vedete, non ci sono neanche gli ingredienti, ma per come posso vederla io, avendola utilizzata per tanto tempo l'alcol secondo me è al primo posto e quindi non mi è piaciuta perché svanito quell'effetto dell'alcol rinfrescante appena messo, il profumo poi subito dopo neanche si sentiva un'oretta e non c'era più niente, ho finito di utilizzarlo, non era rimasto tanto così, non ne potevamo più con Viviana e l'ho messo negli umidificatori attaccati ai termosifoni per profumare un pochino l'ambiente, eppure lì, insomma, il risultato non è stato granché. Non ho terminato, ma sarà rimasta tanta così, ma getto questa, sapete che io non getto mai le cose, questa body lotion di Bio Happy, corpo, fluida corpo, insomma crema corpo al cocktail di frutta, questo è un prodotto naturale che mi era arrivato, se non ricordo male, nella bio box quella in omaggio, quella schifezza immonda, allora la confezione innanzitutto si è rotta, il prodotto puzza, non mi piace assolutamente, non idrata una cippalippa, ho scoperto che i profumi fruttati, diciamo le creme fruttate, non fanno per me, non mi piace, non mi piace l'effetto sulla pelle, non mi idrata sufficientemente la pelle, probabilmente essendo appunto una crema fluida, non è una crema nutriente, probabilmente non va bene per il mio tipo di pelle, per cui ecco, più o meno, se intendo, ce ne sarà ecco tanta così, ma basta, la butto proprio perché no, e poi si è rotta anche la confezione, quindi non vedete affatto pure la, se è tutto sporcato qui, non è aria, sapete che non butto mai le cose, quando le butto è perché proprio non gliela posso fare, terminato lo shampoo di Angelica, dell'Angelica, camomilla ed estratto di lino, dolcente 2 in 1, qua non mi soffermo, lo sapete, amiamo tutti e quattro gli shampoo dell'Angelica, inci a parte, sono degli shampoo che a noi piacciono tanto, questo si sente veramente, questo profumo di camomilla, ma molto molto delicato, e niente, insomma, ci è piaciuto tanto tanto, questo era shampoo e balsamo, in genere non prendo mai l'accoppiata shampoo e balsamo, però, tanto io comunque il balsamo lo vado comunque a mettere dopo, ammorbidiva più degli altri che non hanno il balsamo, boh, non ve lo so dire, però la profumazione è molto gradevole, e poi deterge bene senza irritare l'acute, questa è la cosa fondamentale. Terminato questo detergente intimo della Sensure, anche qui non mi soffermo, sapete che mi piace tantissimo, questo è con attivi prebiotici, è certificato ICEA, senza slas, peg e parabeni, scusatemi, eccomi, eccomi, scusatemi, vi chiedo scusa se qualche volta potrebbe risuonare di nuovo il telefono, devo rispondere perché oggi dimettono mio cognato finalmente dall'ospedale e devo andare a prenderlo io, e quindi sto aspettando che mi chiami e intanto dico, visto che sono a casa e non posso fare altro, mi metto a girare qualche video, quindi perdonatemi se interromperò di nuovo il video, scusatemi anche per la guancia da criceto, ma ho dovuto mettere una caramellina in bocca perché avevo la salivazione azzerata, quando faccio questi video dei prodotti finiti chiacchiero tanto, va bene, allora, terminati i dischetti cotoneve, 50 dischetti levatrucco maxi, orlati, non si sfaldano, non perdono pelucchi, 100% cotone, signore e signori, è vero, ci piacciono, mi piacciono, quando vi... questo pollice, mi vieta a ride oggi, vabbè, sapete quando vi alzate, in una giornata vi alzate e magari ripetete sempre la stessa parola, ho fatto sempre lo stesso gesto, va bene, questo è il mio, come si dice, light motif della giornata, magari ho detto una cosa che non dovevo dire, vabbè, buoni, buonissimi, quando li trovo in offerta da questo sapone li prendo sempre, ahimè, è terminata, terminata la crema anti-age viso notte super nutriente anti rughe di Domus Olea, Olea, Domus Olea, no, Domus Olea, avevo conservato pure la scatola, questa, ve ne devo parlare, l'avete vista, nello struccaggio serale, nei video dei preferiti, nei top dei top, che vedevo di niente, è terminata, ahimè, mi è durata una vita e mezza, e mezzo, qui dava il pau a 9 mesi, credo di esserci rientrata, perché mi sembra di averla iniziata ad utilizzare a fine estate scorsa, l'ho interrotta quest'estate, comunque la crema era perfetta, eccola, che buon odore di olio di oliva, ma buono, veramente, ottima, confezione in vetro, questa anche mi era arrivata in una bio box, queste sono creme costose, l'ho stra amata, spero prossimamente, insomma, più in là di potermene, di poter provare qualche altra cosa di questo brand che adoro, mi è piaciuta tantissimo questa crema, tanto, 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 ne ho altre da smaltire, per cui per il momento non la riacquisterò, io la utilizzavo la notte, perché appunto è una crema nutriente, mi è piaciuta tanto, tanto, mi lasciava la pelle ben nutrita, ma non unta, quindi mi svegliavo la mattina senza avere la zona T lucida, nutriente, non mi ha creato irritazioni, non mi ha creato difficoltà, 100% yes, approvata, babungo, taglio sto pollice, ne posso più oggi, eccola qui, ovviamente è un prodotto ecobio certificato Icea, manco starvela a dire, poi terminati questi dischetti della Cotton Sound, ma non sono quelli al bambù maletici, e i capelli sparafrescia, vabbè, fa niente, sono dischetti in cotone, trattamento antibatterico con argento e titanio, ideale per pelli sensibili, ne ho tenuta una, allora, il cotone impiegato per la realizzazione del dischetto è 100% cotone idrofilo, che ci dice, niente, ci dice solo come è fatto, allora, sono, addirittura due ne ho tenuti, questi dischetti mi sono piaciuti non tanto di più, credo di averli trovati, non mi ricordo se è da risparmio casa, o al centro al cobalò, o forse d'acqua e sapone, tanto quelli sono i tre punti in cui vado, vi devo dire la verità, non me lo ricordo, io non so sta argento e titanio, qua non vi so dire, comunque sono dei dischetti orlati, eccoli qua, hanno una parte liscia e una parte, vedete, con questa zigrinatura, sono, questi ovviamente li riciclo, cioè sono nuovi, e sono morbidissimi, non sono molto spessi, quindi non assorbono tantissimo prodotto, scusate, ok, ok, è arrivata la telefonata, ora non dovrebbe più suonare, speriamo, il mio cognato lo dimettono, grazie a Dio, tra un pochino lo andrò a prendere, tanto c'aveva ancora da fare le sue cose, i giri di ponello, quello non si può muovere, le cose burocratiche, insomma, che devono sbrigare i medici, vabbè, ci interessa, allora, mi sono piaciuti tantissimo, dicevo che non sono molto spessi, quindi non assorbono, vedete, sono proprio sottili, non assorbono tantissimo prodotto, per me sono super promossi, addio questo pollice, sono super promossi, terminato, lo struccante bifasico di botanica, questi sono, questo è speciale per area occhi, con mio estratto di Malve Altea, questo mi era stato, no, questo credo di averlo preso sempre l'estate scorsa all'MD del mare, o LD, no, MD mi sa che era al mare, e mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto, strucca bene, non mi ha creato, scusate, avrete sentito un botto pazzesco, ho le mani secche, mi scivolano, nonostante la crema, mi scivolano tutte le cose che prendo in mano, e questa linea di botanica a me piace tantissimo, mi struccava benissimo, non mi lasciava troppo unta la zona, anche se sapete che per me non è un problema, anzi, avendo ormai un contorno occhi un pochino vecchietto, da vecchietta, mi fa piacere comunque l'idratazione, sento proprio il bisogno di avere la zona intorno agli occhi perioculare, si dovrebbe dire, idratata, nutrita, e ottimo, quando mi ricapiterà di ripassare davanti a un MD o un LD, lo riprenderò sicuramente, poi che ci abbiamo qui, un altro parodontax, e ci vado veloce, ho terminato finalmente questa Ice Potion Perfecting Eye Contour, questo siero contorno occhi perfezionatore effetto sculpting illuminante di Kiko, che io ho tentato anche di utilizzare come, diciamo, contorno occhi, prima di mettere poi il trucco, no, non andava bene, era troppo leggero per la mia pelle probabilmente, qui dice siero contorno occhi, insomma, diciamo che utilizzato come base, ecco, da ombretto al limite poteva andare, infatti alla fine l'ho terminato così, perché era troppo troppo leggero, dovevo comunque andare a mettere il mio contorno occhi, prima di mettere questo, ecco, messo così sì, ma era perfettamente inutile poi alla fine, no, dovendo mettere comunque il contorno occhi e poi andare a mettere questo, la cosa, insomma, si faceva un pochino complicata, quindi alla fine l'ho utilizzato come base occhi, base ombretto, diciamo, sulla valpebra, insomma, reggeva e non reggeva, prodotto nato e finito qui e ciccia, insomma. Ho terminato questa emerita schifezza, ho utilizzato questa maschera occhi illuminante antiocchiaie ossigenanti alla caffeina, dire che ho utilizzato non è proprio esatto, nel senso che alla fine non sono riuscita a metterla sta maschera, primo perché era complicata da applicare e secondo perché era talmente imbevuta che mi colava dappertutto e questa cosa mi ha infastidita enormemente, poi aveva una forma abbastanza strana, qua ve la fanno semplice, ma così semplice non è, credetemi, io che sono un po' cionpa, fatto sta che mi ha cominciato a colare tutto, mi colava qua, non riusciva a stare appiccicata al viso, mi sono presi 5 minuti, non è il periodo questo, molto tranquillo per me, l'ho accartocciata e l'ho buttata, ecco ve la faccio vedere solo per dovere di cronaca, perché ve l'ho fatta vedere in un video haul che avevo fatto secoli e secoli fa da Wicon, ah sì non vi avevo detto che era di Wicon e quindi per dovere, se no voi dite ma questa acquista acquista ma non ci fa vedere niente e che bello, anche i denti zozzi, stiamo alla fine del video, comunque super 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 bocciata, terminata quest'altra schifezza, sempre presa da equivalenza, equivalenza ho capito che va bene solo per i profumi, questo Lip Balm Coconut Cupcake che sono andata a snasare e che mi aveva fatto impazzire per la profumazione, che è veramente buona, non vale niente, ecco ve lo dico, terminato, vi faccio vedere, ecco non sono andata nemmeno a scavarlo come faccio di solito, ne merita schifezza, non idrata niente, è scivoloso sulle labbra, non ci siamo, non ci siamo, assolutamente bocciato, devo purtroppo bocciare, dico purtroppo perché questo è un regalo che mi era stato fatto, questo Lip Balm della Bart Bees, che mi era stato regalato da una preziosa amica e che non ho amato, ecco non che sono dei prodotti comunque non costosi, ma comunque non sono dei prodotti di basso costo, non mi è piaciuto, questo era quello al melograno se non sbaglio, with pomegranate oil, sì con olio di melograno, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto la profumazione pure pure poteva andare, non mi è piaciuta l'idratazione, questo prodotto almeno sulle mie labbra non idratava una cippa lippa, cioè nel momento in cui lo applicavate sì, poi però passando un'oretta nemmeno, dovevo continuare ad applicarlo e riapplicarlo tutto il giorno, quindi no, per le mie labbra decisamente no. Ho terminato con estremo piacere questa BB Cream della Sobio texture leggera colore numero 2, questo è ovviamente un pottino che mi è stato regalato da un'altra mia carissima amica del tubo e che mi ha voluto far provare questa BB Cream di Sobio, guardate a me è piaciuta tantissimo, lei mi ha detto che non si era trovata molto bene e invece io l'ho apprezzata tantissimo, è una texture leggera, il colore numero 2 era perfetto per il mio incarnato, non copre, non ha un'alta coprenza ovviamente, è una BB Cream, però mi è piaciuto tanto l'effetto che mi dava sul viso, naturale, comunque tendeva ad uniformare l'incarnato, pur non coprendo tantissimo, ma io non ho grosse, grazie a Dio, non ho grosse imperfezioni sul viso da coprire, giusto qualche macchiettina qua e là, la vecchiaia, vabbè, ma riesco a coprirle ancora con le BB Cream, quindi per me è un prodotto super stra promosso. Ho terminato questo Velvet Lips, questo scrub insomma labbra di Kiko, eccolo qui, questo mi era stato regalato dalla mia Fedeloi, eccolo qui, ho lasciato proprio un cin cin in per farvi vedere, io non ho mai utilizzato scrub labbra perché non ne sento la necessità, ecco, idratandole tantissimo con il burro cacao, non ho problemi di pellicine, di screpolature almeno sulle labbra, grazie a Dio, quindi non ho la necessità di fare questo scrub labbra, lei me l'ha voluto, me l'ha omaggiata, mi ha omaggiata di questo prodotto e l'ho provato, sì, mi è piaciuto, diciamo, lasciava le labbra piuttosto oleose, idratate, nutrite, profumazione paradisiaca, però non è un prodotto che io andrò ad acquistare, insomma, non sento l'esigenza di scrubbarmi le labbra, ditemi che sono antica, che non capisco niente, ma questo è. Sono riuscita in questa baraonda di periodo natalizio anche a farmi una maschera, pensate un po', questa è quella di Geomar, la maschera viso 5 minuti idratante antistress, io adoro follemente queste maschere di Geomar, sono in genere in confezione doppia, ogni pezzettino equivale ad un'applicazione, io perlomeno ci faccio un'applicazione e mi piace tantissimo, qui dice due dosi, quindi presumo, a me ne serve una, diciamo, una metà per fare tutto quanto il viso e mi piace, mi piace, 5 minuti di maschera è quello che a me serve quando vado di corsa, il che succede praticamente 90 volte su 100 e mi piace, mi piace come lascia la pelle, mi piace tantissimo, ecco, proprio l'effetto che mi dà sulla pelle, un effetto idratante, antistress, la maschera è un antistress di per sé e la mia pelle la riceve veramente con, è brutta, la riceve veramente con compassione questa crema, ecco, quindi questa maschera, quindi strapromossa, terminata, cioè devo gettare, questa limetta unghie che non so quanto tempo avrà, seppure piegata al centro, non lima più, ecco, ve la vedete, è proprio arrivata e va al WAL, non mi dite dove l'ho presa, forse d'acqua e sapone, forse, non lo so, la prendo e la butto, vi faccio vedere che anch'io mi limo le unghiette, ho terminato questo filler notte crema di Bioniche che mi è stato regalato da chi, non mi ricordo, abbiate pazienza, o voi che me l'avete regalato, non me lo ricordo, filler notte crema, insomma, io l'ho usata come crema notte, mi è piaciuta un botto questa crema, completamente inodore, questo è ovviamente un sample, è un campione gratuito, pelli sensibili e intolleranti, buona, mi è piaciuta tanto tanto, l'ho utilizzata appunto come crema notte, sono riuscita a farci, credo forse una settimana, qualcosina di più, non c'è neanche la quantità, qui forse era sulla scatolina, è veramente poca, ma l'ho veramente apprezzata, molto carina, ovviamente è un campioncino, lascia il tempo che trova, ho terminato invece questa crema viso di Bottega Verde, anche questa mi era stata data in omaggio, la linea è Miel Expertise, crema viso giorno, antietà intensiva, rigenerante globale antirughe, eccola qui, questo è una mini size da 15 ml e questa mi è piaciuta tanto, inci a parte, non guardate l'inci, mi è piaciuta tantissimo, ha un profumo delicato, l'ho utilizzata come crema giorno, ci ho fatto tantissimo tempo, non so se un tre mesi, qualcosa del genere, forse qualcosina anche di più, no forse anche di più, mi è piaciuta tanto, no forse un tre mesi, mi è piaciuta tantissimo, super idratante per la pelle, indicata sicuramente per una pelle un pochino più agé, non la consiglierei mai a una pelle giovane assolutamente, ma idratante, non unge, è profumata al punto giusto, quindi vi lascia anche quella profumazione gradevole sul viso, veramente una coccola, l'ho tanto, tanto, tanto apprezzata questa crema. Ho terminato questo struccante bifasico di Puro Bio, ecco qui, che mi è stato sempre omaggiato, amore un bacio immenso per te, spero che le cose vadano un pochino meglio, e l'ho veramente adorato, mi è piaciuto tanto, 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 questo bifasico di Puro Bio, mi ha struccato l'impossibile, l'ho utilizzato ovviamente sugli occhi, non mi ha creato irritazione, la profumazione non me la ricordo, quasi inesistente diciamo, molto, molto, molto apprezzato, grazie per avermelo fatto provare, stavo a ripartire il pollice, così come mi sono trovata benissimo con questa crema viso eudermica di Alchemilla per pelli normali, miste e delicate, una crema favolosa, la sto utilizzando da giorno, una crema super, diciamo, idratante barra nutriente, dà la profumazione delicatissima, che mi sta piacendo, mi sta piacendo perché me ne è rimasta ancora tanta così, un campioncino da, boh, non so da quant'è questo, da 4 ml, non potete capire quanto mi sta durando, me ne è rimasta poca poca, ma ho paura di perdermi la cosina, insomma, quindi ne ho ancora tanta così, bella corposa, anche al tatto diciamo, è bella corposa, nutriente, mi è piaciuta tantissimo e straconsigliata se avete una pelle forse dai 30 anni in su, ecco, normali, miste e delicate, sì, forse come la mia pelle, molto, molto apprezzata e ho terminato questo campioncino di Herborist Silky, fluido, idratante, viso, eccola qui, io l'ho utilizzata come crema viso, una profumazione paradisiaca, questa cremina veramente buona, inci a parte, perché ha il ciclo pentasiloxane al 1, 2, 3, quarto posto, c'ha il dimeticone, i peg, insomma, non è sicuramente Herborist Decay, però mi è piaciuto tantissimo, super idratante, super profumata, sulla mia pelle non ha creato alcun tipo di problema, e per ultimo, ultimo, no, ultime due cosine terminate, se riesco a prendere, sto video durerà 6 ore e mezzo, ho terminato questo profumo di Wicon, questa era un'edizione limitata, questa è la profumazione Andalusia Breeze, una confezione da 100 ml, il paradiso all'improvviso, ne ho due di scorta, guai a chi me ne tocca, perché è buonissimo, è durato tantissimo, come ve lo descrivo, i profumi come si descrivono, non lo so, pure dato in faccia, buono, sa di fresco, di pulito, Andalusia Breeze, ecco, ole, così, diciamo, che vi devo dire, se l'avete, però anche straconsigliato, quando ancora si trovava negli stand da Wicon in offerta, sapete quei box al centro dei punti vendita, se l'avete preso, sapete di che cosa io stia parlando, ne ho ancora due di scorta, ok, super promosso, certo, è un'edizione limitata, e ho terminato un prodotto di make up, cioè in realtà non uno, c'era pure la BB cream, la va a cui erano campioncini, ho terminato questa matita vecchissima, vecchissima, questa era, credo, se non dico una bagianata, era addirittura una matita occhi, innanzitutto matita occhi, marrone, non riesco più a temperarla, ecco, per cui questo pezzettino qui, ma è vecchissima, questa era la 01, era, credo, della collezione, dell'edizione limitata Dark Heroin, se non sbaglio, chi se la ricorda, questa edizione limitata, aveva il pennellino che io praticamente non ho mai utilizzato, e l'ho strautilizzata, un marrone, vi faccio vedere, leggermente glitterato, ma un punto di marrone favoloso, una sfumabilità assoluta, mi faceva durare gli ombretti tutto il santo giorno, una matita che ho davvero apprezzato tantissimo, l'ho straamata, infatti, nonostante io abbia tantissime matite marroni, l'ho utilizzata a ripetizione, anche perché era un po' vecchiotta e la volevo terminare. Ok, carrellata finita, yes, eccoci qua la busta super sozza, scusatemi per le interruzioni, vi ricordo che il video è in collaborazione con Debbie del canale Sproloqui di Deb, giù nell'info box al solito, date sempre un'occhiata all'info box perché a volte vi rimando il link per andare a vedere magari dei video vecchi che sono collegati a quelli che vi faccio vedere, cioè a quelli che vedete nel momento in cui li vedete, insomma ci siamo capiti, e mi raccomando ogni tanto appunto date una sbirciata, nell'info box troverete il link per andare a vedere il canale di Debbie, io vi saluto, scappo a prendere il cognato e ci vediamo il prossimo mese con questa tipologia di video, ciao!